Finisce nel calderone giudiziario anche l'imprenditore gelese Emanuele Catania, 69 anni, nei cui confronti sono stati acquisiti da parte degli investigatori significativi elementi indiziari da collocarlo, come gli imprenditori Carmelo ed Angelo Giannone, tra i partecipi del sodalizio criminale capeggiato dal boss Salvatore Renzivillo. Il suo compito, sostengono gli inquirenti, era quello di amministrare società e ditte individuali attive nel commercio ringrosso e dal dettaglio di prodotti ittici. Catania è stato arrestato questa mattina dagli uomini della polizia e della guardia di finanza. Quello tra Emanuele Catania e i fratelli Renzivillo, sostengono gli inquirenti, è un legame a doppio filo esistente da circa 30 anni. Sono numerosi i collaboratori di giustizia che hanno indicato l'imprenditore al servizio del clan di Cosa Nostra fin dai primi anni 90. Una sinergia questa che trova fondamento in una duplice esigenza, quella di Catania di vedere salvaguardate le proprie imprese rispetto alle pretese estorsive del clan Emanuele e di ottenere l'intervento del clan Renzivillo nei rapporti con gli altri imprenditori vicini ad altre famiglie mafiose siciliane. Quella dei vertici del clan Renzivillo di asservire alcune floride realtà commerciali locali a vantaggio dall'organizzazione per realizzare il riciclaggio dei proventi dei traffici di droga e delle estorsioni. Oltre all'arresto di Catania, i finanziari del GICO di Roma e la squadra mobile di Caltavinsetta hanno sequestrato una ditta individuale, il capitale sociale e l'intero compendio aziendale di altre tre società di capitali tutte con sedia a Gela per un valore complessivo pari a circa 7 milioni di euro. L'inchiesta è quello che lo scorso 4 ottobre portò in manette 36 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione di stampo mafioso, plurimi episodi di estorsione e detenzione illegale di armi, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti, intestazione fittizia di società e traffici di droga. L'inchiesta ha fatto piena luce sugli interessi criminali e imprenditoriali riconducibili al clan Rinsivillo, risultato pienamente operativo in Sicilia, nel Lazio, nel nord Italia ed in Germania documentando come il remunerativo commercio del pesce risultasse uno dei principali settori di investimento degli illeciti proventi. Le indagini hanno consentito di accertare infatti come Salvatore Rinsivillo decidesse di intraprendere un rilevante import-export di pesce tra la Sicilia, il Marocco, il Lazio e la Germania, forte di una collaborazione avviata con Francesco Guttadauro, già condannato per associazione mafiosa titolare di attività commerciali in Sicilia e di Marocco, dove dimorava, e ritenuto esponente di rilevo di Cosa Nostra Parermitana. Per sviluppare l'attività imprenditoriale, Rinsivillo si avvaleva e continua ad avvalersi di imprenditori organici alla storia mafioso operanti a mezzo di imprese di cui lo stesso boss è socio occulto o amministratore di fatto, fornendo anche i capitali necessari per la loro operatività e di imprenditori appartenenti al clan che si pongono in rapporto con l'associazione mafiosa, contribuendo al suo rafforzamento economico in cambio di vantaggi e profitti, sia in termini di espansione sul mercato di riferimento che di limitazione della concorrenza. Secondo le indagini, Cosa Nostra ha letteralmente mappato il territorio nel settore della commercializzazione del pesce, evitando pericolose contrapposizioni ed imponendo nei mercati ittici siciliani la regola in base alla quale occorre pagare una cifra di denaro a titolo estorsivo alle consulterie mafiose locali per potersi approvvigionare di pesce.